Marcus Kletus va vero? eccolo sii voi credete che faccia che roba di o c'è questo qua a moto che sorpassa o c'è questo qua a moto che sorpassa vada vada schiera che su di venire su Marcus Kletus non potrà fare a meno di non potrà fare a meno di di superare il suo il mio versaglio che è ovvio il mio versaglio è vero si dilema viovene Marco non si vede arriverà bella cazzo va questa va questa va questa va la migliore se quello che chiamano da te via ma che tutta lì costa 100 euro si è bella tutta bianca tutta o nera o russa ma la gala è molto dov'è finito Marco? eccolo! facciamo un'intervista a caldo becca Marco 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 un'intervista a caldo un'intervista a caldo tutto bene con quelli scarichi stai stai a caldo un'intervista sfigato 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 guarda la moto perchè se uno non si può che figure tu si con la mv Augusta ok